Puoi eliminare un utente Aruba Drive in qualunque momento, così da non permettergli più l'accesso al pannello di gestione. Per iniziare, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci il tuo username chiocciolaruba.it, la password e il codice di controllo mostrato nell'immagine. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi selezionare il nome del dominio su cui è attivo il servizio Aruba Drive. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, clicca su Aruba Drive e dalla sezione gestione utente, clicca sull'icona dei tre puntini relativa all'utente che desideri eliminare. Seleziona la voce Elimina e conferma l'operazione. La cancellazione dell'utente causa l'eliminazione di tutto il contenuto di proprietà esclusiva di tale utente presente su Aruba Drive.